e quindi ce ne possono stare tante, non trascurrei nemmeno Ganghei che prova la distanza e quindi questo è un po' il campo partente, stanno andando, vado Grazie Jacopo, effettivamente stanno entrando nelle gambe di partenza le cavalle la favorita è Bianca Ora, linea a Jacopo Delia La terza corsa della serata, partite tutte femmine di tre anni ed oltre con Ganghei che prova a portarsi in vantaggio nei confronti di Who's Next queste due allora in vantaggio, l'andatura è buona, Ganghei che solitamente ha parziali più da velocista, comunque da Myler ha preso il via, il suo interprete non riesce a controllare gli ardori di Ganghei Antonio Polli, al momento allora in vantaggio, una davanti a Who's Next le due che sono in netto vantaggio sul resto del gruppetto cappeggiato dall'area swing con in scia Bianca Ora all'interno falcognana e in coda sono le altre due, ovvero luce virtuale insieme a Tinti Schnell davanti sempre Ganghei, Who's Next, un po' il remake della corsa precedente quella degli amatori e intanto allora le due che sono sempre in vantaggio è il completamento della metà gara con sempre Ganghei in un paio di lunghezze davanti a Who's Next Lara Swing, Bianca Ora, falcognana in coda sono le altre due, Tinti Schnell e luce virtuale Ganghei non si risparmia di fronte all'arrivo è sempre in vantaggio nelle mani di Antonio Polli con Who's Next che fa da elastico un po' ora tra appunto la leader e il gruppo che inizia a farsi sotto Ganghei che prova a ripartire con invece Who's Next che viene gradualmente riassorbita dal gruppetto cappeggiato sempre dall'ara swing, poi Bianca Ora e tutte quante le altre Ganghei in fuga a metà della curva conclusiva Ganghei è sempre in vantaggio su Lara Swing che ora inizia ad anticipare gli attacchi poi Bianca Ora, Ganghei ancora davanti, appesantisce un po' l'azione, la figlia di Altieri Lara Swing che si butta il suo inseguimento insieme a Bianca Ora Ganghei in vantaggio all'ingresso in dirittura su Lara Swing, Bianca Ora, Tinti Schnell Ganghei è sempre davanti su Lara Swing, Bianca Ora, Tinti Schnell a largo Ganghei che ha provato la carta della fuga, 200 dalla conclusione ha sempre 5 lunghezze all'esterno Tinti Schnell che si ingamba Ganghei che però è sempre davanti, Tinti Schnell, Ganghei su Tinti Schnell, Lara Swing, Bianca Ora e tutte quante le altre la fuga vincente per Antonio Polli, di nome ma non di fatto il Chicken, li ha messi nel sacco Ganghei, i colori di Calderara Cavezzali è tornato al successo